Buongiorno mister, intanto le chiedo se le emozioni negative del post partita contro il Monza sono passate e come sta la squadra visto insomma il turno intrasettimanale e la partita di domani? L'episodio è sotto gli occhi di tutti allora basta adesso penso penso all'Empoli penso a come stanno i miei giocatori i miei ragazzi a preparare bene questa partita e affrontare come sempre al massimo al massimo la la partita che abbiamo domani pomeriggio contro una squadra che in questo momento è in forma. Buongiorno mister, seppur in due stagioni da quando sei arrivato al Bologna hai ottenuto 55 punti in 38 partite. C'è rimasto sicuramente per fare meglio e per migliorare questo risultato. Alla luce di questo e al di là e al netto dei errori arbitrali cosa si può fare per migliorare questo rendimento e per migliorarti a livello professionale. Continuare nella stessa strada e che non diventi un alibi gli errori arbitrali soprattutto perché alla fine non possiamo controllare mi concentro su quello che posso controllare mi concentro su quello che posso aiutare mi concentro su quello che posso migliorare come i nostri ragazzi. La stessa cosa giorno dopo giorno, lavoro, pensare a loro, pensare a come metterli nella miglior condizione per entrare in campo con informazioni, con allenamenti, con tutto quello che abbiamo dentro il nostro club che è tantissime cose. Ognuno ha il suo ambito al suo lavoro aiutarli perché possano entrare nel campo ogni partita come stanno facendo con grande concentrazione impegnandosi al massimo sempre e è quello il nostro lavoro e sono delle cose che io mi concentro per poter migliorare. Per domani pensi di poter iniziare con lo stesso 11 di giovedì sera? Perché no? Sono tutti in forma. Ragazzi che stanno bene, che ha lavorato dal primo giorno. Tanti sono arrivati alla fine però da quando sono arrivati stanno lavorando sempre bene. Sono pronti per poter giocare. Tutti. Salve mister. Dopo la sosta c'è un denominatore comune in questi 3-0-0. È un Bologna che migliora nella sua prestazione soprattutto nel secondo tempo anche a livello di creazione offensiva, di tiri e anche di possesso palla. Come si spiega questa circostanza e se è un merito degli avversari che magari nel primo tempo sono più chiusi o anche un merito della sua squadra che adesso con 16 titolari nel secondo tempo mantiene un livello alto anche nella ripresa? Tutto. Tutto. Come dico sempre ogni partita è una storia diversa. Ci sono delle partite dove si inizia la squadra avversaria. Magari inizia che viene aperta. È quello che mi aspetto domani. L'Empoli è una squadra che pressa, viene a giocare. Non è una squadra che nel mio punto di vista si chiuderà e noi dobbiamo essere pronti ad uscire di questa pressione o prima pressione bene, con qualità. approfittare gli spazi che si possono creare. È così. Sono tre partite dove il primo tempo sembra più chiusa la partita. e noi affrontare con la testa, capire il momento, capire le situazioni e affrontare nel miglior modo possibile come stiamo facendo. Questa è anche una dimostrazione di concentrazione di tutta una squadra che riesce a capire cosa sta chiedendo la partita in un momento. Buongiorno Tiago. Una domanda. Al netto degli episodi arbitrali, ovviamente, tu pensi che questa squadra avrebbe potuto finalizzare di più? Oppure ci sta con i tempi, visto che è stata rivoluzionata proprio come, diciamo, comparto di giocatori? Penso che nel momento quello che abbiamo prodotto è quello che possiamo farlo. Penso che dobbiamo continuare a lavorare come sempre. E il futuro lo dirà. Lo dirà la crescita, il miglioramento di queste squadre. Penso ad oggi, penso alla partita, la prossima, che è una sfida importante per noi, perché alla prossima partita è dove noi dobbiamo avere la nostra testa, la nostra mente, tutta la nostra energia. E nel futuro possiamo parlare di quello che siamo stati capaci di migliorare, quello che possiamo continuare a migliorare. Ma oggi sono soprattutto soddisfatto del gruppo, soddisfatto dell'impegno, della concentrazione e della disponibilità. La partita scorsa hanno partecipato i giocatori che avevano bisogno di partecipare, perché lo stavano dimostrando nell'allenamento, lo hanno dimostrato anche in partita. Sono contento, sono contento perché così si alza il livello. Buon pomeriggio, mister. Ti chiedo come sta De Silvestri e se può partire dal primo minuto Corazza? Sta bene De Silvestri. Lolo si sta allenando come sempre molto bene. ha fatto un'ottima partita a Monza. Tommaso, come tutti gli altri, può partire dall'inizio, sicuramente. Vedremo domani. Una delle risposte belle che hai visto con Monza credo sia stata la prestazione di Riccardo Calafiori. In cosa deve migliorare questo ragazzo per essere un punto pregiato di questa compagine? Come sempre in tutto. Deve migliorare in tutto. È un ragazzo giovane, con grande qualità. Un ragazzo molto serio che, come gli altri, sta lavorando molto bene tutti i giorni. Non mi sorprende la prestazione che ha fatto perché lo vedo tutti i giorni in allenamenti quello che può dare alla squadra. E sono contento anche per continuare. Deve continuare a lavorare come tutti gli altri quando si gioca il massimo. Chi gioca bene, chi non gioca e chi entra bene. E chi in questo momento ha partecipato poco. C'è solo un modo. Lavorare, allenarsi e quando avrà l'opportunità sicuramente poter aiutare le squadre. Com'è cambiato l'Empoli da Zanetti ad Anderazzoli? Credo che giocano più o meno nel stesso modo. È solo che, come normale che sia, un cambiamento produce un entusiasmo. Una situazione dove, anche se Anderazzoli è già stato, è nell'Empoli. Però prima avevano un grande allenatore perché ha fatto un grande anno l'anno scorso e adesso hanno un altro grande allenatore che ha già fatto un grande lavoro all'Empoli e oggi è tornato e sta ritrovando la serenità alla squadra perché ha visto contro l'Inter, ha fatto un'ottima partita e la ultima contro la Serenitana, già con una vittoria. Vuol dire che è una squadra che sta migliorando. Ciao Tiago. E tu invece come sei cambiato da Empoli a Empoli in questo anno calcistico? Mi definisci questo anno calcistico in tre parole tue? Difficile, difficile. Che cosa ho migliorato? Difficile da dire così. Cerco di essere attento, essere concentrato, cerco di essere osservatore e allo stesso tempo di agire nel momento giusto. È chiaro che per un allenatore trovare questi momenti non è facile, però è il nostro lavoro e lì dobbiamo portare tutta la nostra attenzione. Migliorare, c'è tanto da migliorare. Quello che è successo nell'anno o nel passato rimane sicuramente, però da oggi, penso a oggi alla prossima partita e cosa possiamo migliorare tutti i giorni per poter affrontare sempre meglio le situazioni, la nostra squadra sicuramente, ma anche quando andiamo a affrontare gli avversari. Senti, la seconda. Un ragazzo che evidentemente si deve ambientare, forse deve variare anche le proprie giocate, secondo me, ma comunque deve migliorare Carlson. Come ci stai lavorando? È uno di quelli che è arrivato alla fine del mercato. È un giocatore speciale nel mio punto di vista perché ha dei colpi incredibili. È chiaro che ci sono dei ragazzi che devono avere un po' più di tempo che un altro per poter adattarsi e inserirsi dentro un gruppo. Sono contento della disponibilità fino ad oggi di Gesper perché sta cercando di capire cosa deve fare per poter aiutare la squadra, di capire anche quello che c'è intorno, ossia i suoi compagni, e dargli tempo, aiutarlo, accompagnarlo in questa sicuramente crescita come ragazzo già perché conosce un altro ambiente e soprattutto come giocatore. Seguo un po' questa domanda su Carlson e faccio un po' una cosa di reparto. Parlo degli esterni ovviamente, che è un reparto su cui Bologna ha lavorato tanto sul mercato, anche a livello di investimenti. Le chiedo, è arrivato il momento che incidano di più offensivamente? Perché fino adesso tra gol e assist è il reparto che sta mancando a livello di giocata del giro. Poi magari si sacrificano tanto in fase di non possesso, però. Beh, si sacrificano. È quello che devono fare. È il loro lavoro. Si sacrificano, danno una mano dietro, come devono fare. Sicuro. Guarda, abbiamo gli esterni che sicuramente hanno dentro una organizzazione i loro compiti dentro queste squadre, che sia per per attaccare la linea avversaria, che sia per attirare i terzini o i quinti e aprire internamente sia la fase difensiva, sia l'assist, il gol, il combinare con il compagno. Sono tante cose che possono migliorare sia per caratteristica, per qualità, per età. Sono tranquillo perché lavorando come stanno lavorando, come tutto il gruppo, perché alla fine la responsabilità del gol non è solo degli attaccanti. Ho sempre detto che è una responsabilità un po' di meno di Lucas perché può incidere, ma non tantissimo come i suoi compagni, lo può incidere da iniziare da dietro una buona azione, come già è stata fatta l'anno scorso e altre volte che non è andata a finire il gol, ma l'ha fatto molto bene. poi la responsabilità del gol e l'anno scorso abbiamo avuto tanti giocatori della terza e della seconda linea che sono arrivati e hanno fatto gol e anche loro responsabilità che devono contribuire, devono aiutare e con tranquillità, naturalità e allenamenti anche gli esterni arriveranno a contribuire su questa cosa qua. Gol, assist, essere incisivi, pericolosi nella fase offensiva. Mi collego sempre a questo discorso del reparto offensivo. Stavo pensando mentre guardavo la partita che nel secondo tempo già c'è stato un po' più di attacco alla profondità e verticalizzazione, ma mi chiedevo nel primo tempo questo attacco alla profondità non è mancato. Allora mi chiedevo in linea più generale dipende sempre questa cosa dalla squadra che si ha di fronte oppure bisogna un po' migliorare su questa modalità? Dipende sicuramente dalla squadra avversaria perché sia una squadra che ti lascia gli spazi dietro dobbiamo utilizzarli e dobbiamo sfruttare ma anche con delle squadre che si ricompattano e si mettono a difendersi bassi lasciando poco la profondità dobbiamo continuare ad attaccarla sicuramente perché è un momento importante del nostro gioco sia che la palla arriva perché la cosa ideale è che la palla arrivi stoppa e fa gol la cosa migliore perché in un passaggio arrivi a fare gol e se no si aprono gli spazi per altri giocatori che possono giocare tra le linee con più spazi sono delle situazioni dove sicuramente possiamo fare meglio ecco infatti intendevo proprio la capacità di crearsi proprio degli spazi e verticalizzare in questo senso sì sì sono d'accordo salve mi ricollego a questa cosa dell'attacco volevo chiedere ma secondo lei questa squadra ha un problema legato al gol o è diciamo una questione che va di partita in partita o è un problema più generale è una situazione dove quando si parla di attacco si inizia ripeto si inizia con Lucas non dobbiamo solo fissarsi su tra virgolette attaccanti è chiaro che loro sono più vicini alla porta però quando io parlo di difesa il primo è Joshua e quando io parlo di attacco il primo è Lucas vuol dire che per migliorare perché non è un problema per migliorare una situazione abbiamo bisogno di di tutti che sia nella qualità che sia nella velocità nel ritmo nella intensità nel momento giusto per poter per poter mettere in condizione un compagno a finire bene l'azione ripeto stando gli attaccanti più vicini alla porta avversaria fanno parte di questa responsabilità magari un po' di più degli altri ma tutti gli altri hanno responsabilità offensiva come tutti hanno la responsabilità difensiva sei più contento dei 338 minuti di imbattibilità di Skorupski o più dispiaciuto per non aver segnato almeno un gol sono contento che è l'atteggiamento della mia squadra sono contento dell'impegno che dimostrano sempre sono contento della disponibilità sono contento da come affrontano ogni situazione e attitudine su ogni situazione del gioco perché per esempio la ultima partita c'erano delle situazioni difficili da gestire e l'attitudine dei ragazzi è stata positiva nel mio modo di vedere questo gioco fantastica e sono delle cose che io mi concentro alla fine i punti che abbiamo sono i punti che abbiamo meritato sul campo i gol fatti e i gol subiti sono quello che abbiamo visto dentro al campo potevamo fare meglio sì ma poteva andare anche peggio e io sono contento con quello che ho non guardo né di più né di meno e da quello che abbiamo continuare a lavorare per migliorare ogni aspetto del gioco ma non solo l'offensivo anche il difensivo perché contro il Monza abbiamo fatto una buona partita difensiva però ci sono dei momenti soprattutto nella pressione che automaticamente dobbiamo aprirsi però esiste il tempo giusto il modo giusto la connessione e l'automatismo tra di loro per non dare il vantaggio alla squadra avversaria e a Monza spesso abbiamo dato il vantaggio sulle seconde palle sulla parità numerica in attacco loro dove è una squadra pericolosa e sono delle cose che noi facciamo attenzione non solo in attacco ma anche in difesa di poter migliorare pericolosa pericolosa